Rihanna è incinta, la al Super Bowl. Un ritorno sul palco decisamente in grande stile quello di Rihanna, che ieri al Super Bowl ha incantato tutti. Una tuta rosso fiammante avvolgeva le sue forme, mostrando una dolce sorpresa, la seconda gravidanza. Il prestigioso evento si è tenuto ieri presso la State Farm Arena di Glendale, in Arizona. E la donna era presente in qualità di headliner dello spettacolo. In questa circostanza ha eseguito meddly dei suoi più grandi successi ma ha dato il pubblico letteralmente invisibilio. Il look di Rihanna era in total red. Una tuta rosso fiammante avvolgeva le sue dolci forme mentre attorno a lei, i ballerini erano vestiti a contrasto in total white. In particolare, l'outfit era composto da una tuta love personalizzata e messa a punto da Jonathan Anderson. La cantante vi ha poi abbinato un bustier corazza lucido all'altezza del seno, a coronare il tutto gioielli messica. Un orologio Jacobe Co. Tempestato di diamanti, da circa 70.000 euro, e scarpe sportive Margiela X Salomon. Inoltre, per alcuni momenti dell'esibizione, la cantante ha aggiunto due diversi capi spala personalizzati quali una sciarpa imbuottita e un maxi cappotto. Entrambi di pelle rosee e con guanti integrati. Il primo figlio di Rihanna è nato nel maggio del 2022. La sua è stata una gravidanza molto chiacchierata per via delle indiscrezioni sul presunto tradimento da parte del compagno proprio a poche settimane dal parto. In un primo momento la coppia si è allontanata per poi tornare assieme. Ne è un esempio il red carpet dei Golden Globe durante i quali Rihanna e il rapper Asap erano vestiti coordinati in nero con preziosi gioielli di diamanti. L'esibizione del Super Bowl ha dunque riacceso i riflettori sulla donna ed in particolare sulla sua seconda gravidanza. Fino a questo momento tenuta nascosta. Grazie. Grazie.